Dino Ruggeri, presidente dell'associazione Moon Watchers, l'associazione che ha promosso questa due giorni, 24 e 25 di luglio, a State, un'iniziativa davvero particolare, festival internazionale del cortometraggio di State. Parliamo. È un'idea come già anticipato il nostro direttore artistico che nasce già da parecchi anni fa e che quindi quest'anno trova la sua concretezza. Nel 2018 con questa iniziativa, con questo evento. Io devo ringraziare soprattutto l'amministrazione comunale per la grande e soprattutto l'assessore della cultura di Agorardusa per la grande disponibilità e per aver abbracciato da subito questa idea. Dico senza di loro con molta poverità non ci sarebbe stato questo festival. Quindi come presidente dell'associazione mi preme soprattutto ringraziare questa grande propensione a questi identiti di carattere oggi, noi lo abbiamo definito internazionale, ma internazionale con il semplice fatto che ci sono pervenuti parecchi lavori da parecchi parti d'Europa, Russia, Germania, Francia, Inghilterra, Spagna e di cui poi sono stati selezionati alcuni proprio perché ci avevano convinto c'è della preparazione del cortometrario di seri per sé. Quindi è un'iniziativa che nasce a Stante e mi auguro che per il futuro possa portarsi ancora più in avanti, ingrandirsi sempre di più. Le idee ci sono, la volontà c'è, il progetto c'è. Mi auguro che nel futuro, anche per l'anno prossimo, la prossima edizione, si cresca sempre di più.